buonasera missionario vorremmo sapere quali sono le basi della preghiera biblica quali sono le basi della preghiera biblica sì io ho sempre insegnato che sono adoration confession thanks giving application sarebbe adorazione confessione ringraziamento e supplica e diciamo l'adorazione questa è sicura che ci deve essere ci sono stati adesso dei cambiamenti da un anno e mezzo a questa parte per via di questo rapporto diretto che ho con dio contatto diretto con dio quindi l'adorazione ci deve essere sempre adorare il signore magnificarlo innalzare il suo nome osannarlo quindi questa è tutta parte della adorazione riguardo alla confessione questa è non sto dicendo di non chiedere perdono a dio sto soltanto dicendo che il fatto che lui è morto per noi lui ci ha già perdonati ha perdonato i nostri peccati passati presenti e anche futuri quindi ha perdonato tutti i nostri peccati il fatto che noi continuiamo a chiedere perdono a chiedere perdono a chiedere perdono significa che noi abbiamo poca fiducia poca fede nel nel valore salvifico e di redenzione che il signore ha fatto per noi quindi questa opera che lui ha fatto sulla croce l'opera di redenzione è totalmente sufficiente e potente ed efficace di perdonare tutti i nostri peccati quindi chiedere continuamente perdono a dio continuamente perdono a dio non è necessario perché lui ci ha già perdonati e se noi chiediamo continuamente perdono a dio significa che noi abbiamo questo dubbio mi ha perdonato non mi ha perdonato non sto dicendo che non bisogna chiedere perdono anche io poco fa ho chiesto perdono per dei pensieri malvagi che ho quindi ogni tanto bisogna chiedere perdono ma è più comodo per noi chiedere perdono perché ci dà un senso di pace di serenità ci mettiamo l'anima in pace in qualche modo per lui non fa nessuna differenza lui è morto e risorto per noi ha pagato i peccati e chiunque crede in lui ha la vita eterna quindi primo cosa basilare e adorare il signore adoration poi confession io la cambierei con diciamo un'altra parola e che è la santificazione la consacrazione consacration consacrazione più che confessione quindi chiedere a dio di aiutarci ad essere riconsacrati a lui quindi a ricominciare da capo sempre tutti i giorni come fosse il primo giorno di fede e vivere la fede una in una maniera forte e poi il terzo è ringraziamento no ringraziamento questo ci deve essere sempre come l'adorazione non deve mai variare ringraziarlo soprattutto per la vita eterna che ci ha dato ringraziarlo per tutto ciò che ci dà che ci alziamo che camminiamo che possiamo fare tutte le cose per il lavoro se c'è se non c'è lavoro per la salute se non c'è la salute per la vita eterna c'è sempre un modo per ringraziarlo e l'ultima cosa è la supplica no supplication quindi adoration confession o consacration thanksgiving and supplication acts act sarebbe gli atti sarebbero i credenti del libro degli atti che loro questa era la preghiera efficace che loro facevano anche la preghiera del padre nostro contiene queste quattro cose in maniera un po diversa diciamo e quindi l'ultima cosa è proprio supplicarlo chiedere a lui quello che noi vogliamo in realtà neanche questo è necessario perché la scrittura ci dice che prima che noi apriamo la bocca lui già sa quello che è buono per noi noi chiediamo signore dammi questo lavoro badante forse lui sa che per te è meglio un lavoro domestico forse sa che è meglio un lavoro babysitter o altre cose no quindi cosa tu vuoi chiedere a dio che cosa sai tu più di dio per chiedere che lezioni vuoi dare tu a dio su quello che ti serve a te lui lo sa meglio di te quello che serve a te quindi chiedere a dio sì lo puoi fare ogni tanto chiedere perdono a dio sì lo puoi fare ogni tanto ma non lo devi fare continuamente 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 perché lui ti ha già perdonato perché lui sa già quello che tu hai bisogno meglio di te quindi prima io credevo adoration confession thanksgiving and supplication adesso credo nell'adorazione e nel ringraziamento queste sono le due cose importanti quindi quando mi alzo la mattina o il pomeriggio la sera sempre continuamente lo adoro lo magnifico lo osano osano il suo nome e poi lo ringrazio per le mille cose che mi dà grazie per questa domanda grazie a lei missionario buonasera